Musica Terribile incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi lungo la statale 284 Paternora Andazzo a perdere la vita Antonio Emanuele Colino, 45enne, originario di Paternò e residente a Santa Maria di Licodia Sulla statale 284 e sulla SS121 occorrono gli autovelox, sulla Paternora Andazzo gli occhi elettronici sono stati spenti nei territori di Paternò e Biancavilla mentre non sono mai esistiti a Belpasso e Adrano I giudici della Corte d'Appello si sono pronunciati nel processo per le spese pazze a Lars con donne ridotte per Salvo Pogliese e Cataldo Fiorenza, tre gli assolti Siglato nel pomeriggio Santa Maria di Licodia è il protocollo d'intesa per il progetto Zero Molestie Sistema Antiviolenza in Rete Ancora pochi giorni e via Vittorio Emanuele di Paternò riaprirà interamente al traffico commercianti sfiduciati sul futuro Anna Gennaro di Confcommercio Paternò chiede l'amministrazione una strategia di rilancio per via Vittorio Emanuele occorrono iniziative per attrarre la gente in centro Domani si celebrerà la giornata nazionale contro pedofilia e pedopornografia per l'occasione la polizia postale di Catania ha reso noti i dati più significativi nel territorio per la tutela dei minori Si sono conclusi nella pomeriggio a Ragalna i lavori di ripristino del sistema di rilancio dell'eserbatoio Canfarella 2 Detenzione e spaccio di droga con questa accusa i carabinieri di Castiglione e di Sicilia hanno arrestato un 21enne rumeno già noto alle forze dell'ordine Ben trovati a Ciac News apriamo questa edizione del nostro telegiornale parlando del terribile incidente mortale che si è verificato nel primo poveriggio di oggi sulla statale 284 la paternò Randazzo a perdere la vita Antonio Emanuel Colino 45enne originario di paternò e residente a Santa Maria di Licodia sentiamone di più nel primo servizio di oggi Il violento impatto nel primo pomeriggio di oggi alle 13.30 circa con la statale 284 la paternò Randazzo che ancora una volta si conferma strada ad alta densità di pericolo un uomo Antonio Manuel Colino 45 anni originario di paternò e residente a Santa Maria di Licodia ha perso la vita mentre con la sua vettura una Peugeot 2008 viaggiava in direzione paternò l'uomo stava rientrando al lavoro a Catania dove lavorava in una ditta di telecomunicazioni dopo aver pranzato a casa ed invece sulla strada ha trovato la morte tra i mezzi coinvolti nell'impatto si tratta di una Renault Scenic con a bordo una famiglia padre, madre e due bambini un furgone Ford con alla guida un uomo di Catania e la Peugeot 2008 con alla guida Colino sul posto i vigili del fuoco di paternò e Adrano i carabinieri della stazione della compagnia di paternò il 45enne sarebbe morto sul colpo la strada è rimasta chiusa per permettere l'intervento dei soccorsi a disciplinare il transito gli agenti della polstrada di Randazzo i feriti sono stati portati tutti all'ospedale San Marco di Catania secondo una prima ricostruzione dell'accaduto effettuata dai carabinieri la Renault Scenic e il furgone procedevano nella stessa direzione di marcia verso Adrano mentre il 45enne era sulla corsia opposta in direzione paternò per causa in corso d'accertamento forse un sorpasso azzardato sembra che il furgone abbia tamponato la Renault Scenic da qui la perdita del controllo del mezzo con il furgone che avrebbe invaso la corsia opposta colpendo in pieno la Peugeot di Colino che intanto sopraggiungeva il furgone ha poi finito la sua corsa cappottandosi su un fianco i vigili del fuoco di Paternò e Adrano a loro arrivo hanno estratto dall'abitacolo il conducente del furgone il 45enne a bordo della Peugeot che indossava regolarmente la cintura di sicurezza il conducente del furgone è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Marco di Catania nello stesso ospedale anche la famiglia di Ragalna rimasta sotto shock per l'accaduto purtroppo io ho preso la notizia un'oretta fa e questa è una cosa che ha lasciato tutti senza parole io mi stringo ai familiari fra l'altro la mamma è un nostro dipendente che lavora con noi quindi mi stringo ai familiari e questo purtroppo ripete l'ennesimo incidente che accade nella 284 io mi auguro che questi lavori vengano fatti il prima possibile non voglio fare polemiche però siccome qualche mesetto fa noi abbiamo installato un autovelo e queste tutte le problematiche di questo mondo non dobbiamo pensare alla salute di chi percorre alla vita di chi percorre questa strada purtroppo oggi questo giovane ricottiese lascia due bambine la moglie, i genitori nello sconforto più assoluto io sono veramente addolorato mi stringo tantissimo ai genitori e alla moglie del giovane ricottiese che purtroppo oggi senza nessuna colpa ha perso la vita sulla statale 284 e sulla statale 121 occorrono gli autovelox sulla paterno randazzo gli occhi elettronici sono stati spenti nei territori di Paterno e Biancavilla mentre non sono mai esistiti a Belpasso e Adrano sentiamo l'incidente avvenuto oggi sulla statale 284 pone ancora una volta i riflettori sulla problematica della sicurezza dell'arteria stradale il tratto di contrada Scalilli nel corso del tempo si è rivelato tra i più pericolosi di tutto il lungo percorso lo testimoniano i numerosi incidenti stradali molti anche mortali avvenuti in quel rettilineo che ricade in territorio di Paterno la strada ad una sola corsia per senso di marcia è spesso teatro di incidenti stradali determinati da guida spericolata nella quasi totalità dei casi si tratta di sorpassi con invasione di marcia sorpassi dove spesso qualcosa non funziona ed il risultato è l'incidente non si contano più i morti su questo tratto di pochi chilometri oggi l'ennesima vittima per mettere fine alla strage di innocenti che caratterizza anche la statale 121 la paternò Catania nel 2019 l'allora prefetto di Catania Claudio San Martino dopo l'incidente sulla SS-121 che costò la vita a quattro giovani adreniti chiese ai sindaci l'installazione di autovelox proprio con l'obiettivo di controllare i limiti di velocità e impedire le infrazioni al codice della strada a Scalilli l'autovelox è stato attivato dal comune di Paterno ma solo per tutto il 2022 a fine anno non è stato rinnovato il contratto con l'azienda nonostante alle casse comunali ha portato un ingente quantitativo di denaro circa 300.000 euro dal comune è comunque arrivata la rassicurazione che l'autovelox verrà presto riattivato lo stesso vale anche per Biancavilla con l'autovelox anche qui andato in stand by mentre Adrano addirittura non lo ha mai avuto Santa Maria di Licodia ha invece recentemente attivato addirittura due autovelox con le telecamere di controllo installate lungo la statale 284 e lungo la ex 121 in direzione Regalbuto telecamere anche a Misterbianco lungo la statale 121 in entrambe le direzioni di marcia ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti dove vi sono telecamere gli incidenti calano vertiginosamente sull'argomento è intervenuto anche il deputato nazionale Francesco Ciancitto che dice da qualche mese sulla statale 284 sono stati spenti gli autovelox nei territori di Paternò e Biancavilla visto il fondamentale ruolo che le telecamere ricoprono dall'appunto della sicurezza viabile ho contattato il prefetto di Catania Maria Carmela Librizi chiedendole un intervento il prefetto continua ancora Ciancitto convocherà i primi cittadini già nei prossimi giorni per verificare i motivi che ad oggi hanno impedito la riattivazione del controllo con telecamera ci spostiamo adesso a Palermo i giudici della Corte d'Appello si sono pronunciati sul processo per le spese pazze all'Ars condanne ridotte per Salvo Pogliese e Cataldo Fiorenza 3 gli assolti i dettagli nel prossimo servizio 3 assoluzioni e 2 condanne con riduzione della pena è quanto decretato dai giudici della Corte d'Appello di Palermo nel processo nato dall'inchiesta della Guardia di Finanza risalente al 2014 sulle spese pazze all'Ars cancellate o riviste in parte dunque le condanne inflitte in primo grado fra le spese effettuate con i soldi destinati ad attività istituzionali e contestate dalla Procura ricordiamo c'erano quelle relative all'acquisto di borse di lusso gioielli, auto ma anche multe, fumetti e pandori in Corte d'Appello Rudy Maira inizialmente condannato a 4 anni e 6 mesi è stato assolto da alcuni capi di imputazione mentre per una spesa di 2000 euro è intervenuta la prescrizione assolta anche Giulia Adamo ex sindaco di Marsala sulla quale pendeva una condanna di 3 anni e 6 mesi era stato condannato a 3 anni in primo grado ed è invece stato assolto pienamente nel merito in Corte d'Appello Livio Marocco ridotte le condanne invece a Salvo Pogliese ex sindaco di Catania oggi senatore di Fratelli d'Italia e Cataldo Fiorenza ex parlamentare regionale la pena di Pogliese è stata ridotta a 2 anni e 3 mesi 4 anni e 3 mesi era la condanna in primo grado tolta invece la pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici i suoi avvocati hanno già annunciato il ricorso in Cassazione dopo il deposito delle motivazioni della sentenza Fiorenza infine è stato condannato a 2 anni e 2 mesi invece di 3 anni e 8 mesi Siglato nel pomeriggio di oggi a Santa Maria di Licodia il protocollo d'intesa per il progetto Zero Molessie nel contributo tutti i particolari Il comune di Santa Maria di Licodia e Zero Molessie esiglano un protocollo d'intesa l'obiettivo è quello di aiutare le donne in difficoltà vittime di violenza o di molestie aprendo uno sportello proprio all'interno della sede comunale garantendo l'anonimato e quindi la massima sicurezza c'era grande attesa per questa firma si tratta dell'ennesimo comune che entra all'interno di questa rete andiamo ad ascoltare le interviste che abbiamo realizzato con l'ente istituzione il comune di Santa Maria di Licodia e Zero Molessie Oggi abbiamo appena firmato questo protocollo d'intesa con l'associazione Zero Molessie è una cosa importante per noi perché comunque poter aiutare le donne in difficoltà è una priorità che noi abbiamo sempre avuto non solo le donne ma chiunque in questo caso parliamo di violenza contro le donne purtroppo noi sappiamo ogni giorno quello che accade in tutti i tali e purtroppo anche in Sicilia anche in i nostri territori quindi noi dobbiamo fare qualcosa e questo qualcosa lo abbiamo iniziato con il protocollo d'intesa con Zero Molessie ci sarà uno sportello anti-violenza dove le donne potranno denunciare le violenze che purtroppo ricevono giornalmente in maniera molto diciamo in incognita e quindi non c'è nessun problema saranno collegate con le forze dell'ordine e lo sportello sarà gestito da un'associazione locale quindi è ancora meglio per poter combattere questo grave problema che purtroppo ci assella il significato sta nella volontà da parte della rete Zero Molessie Sinalp di essere presente in tutti i comuni della regione siciliana perché solo in questo modo sensibilizzando gli enti locali si potrà sicuramente fare un passo avanti per debellare questo gravissimo problema della violenza sulle donne e noi chiediamo ai comuni di attivarsi affinché mettano a disposizione una stanza all'interno degli uffici comunali per aprire uno sportello Zero Molessie in modo che la donna che deve denunciare il fatto non ha bisogno di andare in giro nella città perché basta che si rega al comune all'interno del comune trova questo sportello a disposizione in più chiediamo ai sindaci di emettere una ordinanza per invitare le attività commerciali di quel comune a inserire nello scontrino fiscale dove c'è la ragione sociale dell'azienda un rigo in più mettendo il numero di telefono antiviolenza in modo che chiunque anche comprando semplicemente un panino dal panificio già sa come comportarsi a chi rivolgersi e a chi chiedere un sostegno e un aiuto Oggi viene esiglato questo protocollo di intesa si aggiunge un nuovo comune state cercando di coinvolgerli tutti la tematica sicuramente in questo momento richiama la sensibilità di tutti Soprattutto la sensibilità la parità di genere e soprattutto prevenzione informazione e formazione del territorio e anche delle persone perché è importantissimo dare alla gente la possibilità di potersi relazionare in maniera serena e tranquilla nei confronti di una società molto caotica e violenta che viviamo giorno per giorno La presenza cospicua della donna nel nostro consiglio comunale più della metà questo ci rende particolarmente sensibili verso queste tematiche ma comunque lo saremmo state in questo caso l'istituzione il comune quindi il sindaco l'assessorato faranno da padron protettore insomma di queste donne che vorranno rivolgersi al nostro sportello d'ascolto attraverso il quale metteremo in campo anche delle attività di informazione di formazione e di orientamento appunto per queste donne quindi abbiamo abbracciato con vero piacere il progetto di Zero Molestie Ci spostiamo adesso a Paternò dove tra pochi giorni via Vittoria Emanuele verrà totalmente riaperta al traffico veicolare dopo i lavori di ripavimentazione sono infatti trascorsi 20 giorni dalla posa dell'ultima basola e dunque sarà adesso consentito il passaggio alle auto nell'ultimo tratto ancora chiuso i lavori durati sei mesi hanno creato non pochi disagi ai commercianti stamattina ci siamo regati proprio in via Vittoria Emanuele per sentire quali sono con la riapertura le aspettative degli operatori della strada più importante della città sentiamo qualche giorno ancora interamente via Vittoria Emanuele di Paternò verrà riaperta al traffico manca ormai soltanto questo tratto in corrispondenza delle palme ma dopo la riapertura cosa avverrà abbiamo notato in giro tanti cartelli affittasi o vendesi vi è anche la questione delle strisce blu e dunque cosa ne pensano i commercianti di Paternò lo abbiamo chiesto speriamo che le persone riprendano un'altra volta i vecchi abitudini ritornano un'altra volta da queste parti perché davvero non vediamo nessuno abbiamo avuto un calo almeno dell'80% con la strada chiusa questo è poco ma è sicuro ora già da 20 giorni che la strada non è finita e non è stata aperta e quindi continuiamo sempre a lamentarci ci siamo lamentati col sindaco ma non è successo nulla quindi ormai aspettiamo che apre e basta rispetto alle strisce blu qual è la vostra posizione? siamo d'accordo per le strisce blu almeno si mette un pochettino di ordine perché c'è un po' di caos veramente caos quindi con le strisce blu penso che la maggior parte dei negozianti siamo d'accordo non ci aspettiamo niente di diverso da quello che abbiamo vissuto fino ad oggi perché ha sei mesi che praticamente la strada è completamente morta c'è un centro storico un centro storico anonimo abbiamo visto che ci sono molti affittasi o si vende secondo lei con la riapertura si può un po' vivacizzare il commercio? io mi auguro di sì ma penso proprio di no le strisce blu favorevole o contrarie? io sono favorevole però secondo me ci sono troppe zone del paese che comunque ne faranno parte quindi secondo me anche per i residenti dovevano dare una possibilità in più di parcheggio gratuito restiamo sull'argomento perché sin dall'avvio dei lavori in via Vittoria Emanuele la Conf Commercio di Paternò ha discusso anche animatamente con l'amministrazione comunale nel tentativo di ridurre l'impatto dei lavori sulle vendite abbiamo intervistato Anna Gennaro della Conf Commercio che parla delle difficoltà degli operatori e delle possibilità di rilancio economico in centro storico Pietro Nicosia era il 7 novembre del 2022 quando la via Vittoria Emanuele di Paternò è stata chiusa per i lavori di rioffacimento del manto stradale con basolato lavico siamo a pochi giorni dalla riapertura cosa si aspettano i commercianti di Paternò adesso ovviamente della via principale? i commercianti si aspettano ben poco siamo tutti quando oramai quasi senza speranza francamente perché è tutto desertificato ce ne sono stati altri commercianti che durante questo periodo si sono organizzati per andarsene chi si era organizzata prima per fortuna per loro non lo so che cosa ci dobbiamo aspettare francamente perché non passano le persone né a piede né niente è deserto abbiamo visto che ci sono affittasi vendesi lei parla di desertificazione e come si può rilanciare allora questo centro storico di Paternò è una cosa difficile non è una cosa facile ma si potrebbe provare facendo un periodo di iniziative proprio per rivitalizzare fare movimento piccoli concerti con con l'aperitivo non lo so qualche concorso dove ci sono dei ragazzi che dei gruppi musicali che si si esibiscono qualche cosa di questo genere ma è una cosa molto difficile riguardo le strisce blu i commercianti di Paternò sono favorevoli o contrari ma sicuramente favorevoli perché da l'opportunità a tutti quanti di poter di poter esserci una rotazione nel parcheggio e quindi più posti penso domani si celebra la giornata nazionale contro pedofilia e pedopornografia per l'occasione la polizia postale di Catania ha reso noti i dati più significativi nel territorio per la tutela dei minori sentiamo domani si celebrerà la giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia per l'occasione la polizia postale ha reso noti i dati più significativi di un impegno quotidiano per la tutela dei minori da ogni forma di rischio gibernetico il centro operativo sicurezza gibernetica della polizia postale sicilio orientale che opera nelle province di Catania Messina Ragusa e Siracusa nel 2022 ha trattato 219 casi di reati inerenti allo sfruttamento sessuale dei minori traendo in arresto 6 persone e indagandone 116 inoltre sono stati monitorati 4.578 siti di cui ne sono stati rilevati 2.900 con contenuti illeciti e i primi 4 mesi del 2023 il centro ha trattato 50 casi di cui 15 relativi ad adescamento online ha ricevuto 342 segnalazioni denunciato 36 persone identificato 4 vittime minorenni e monitorato oltre 2.800 siti rilevando 520 spazi virtuali con contenuti illeciti la lotta all'abuso sessuale online in danno di minori rimane una delle nostre priorità di attività dichiara il dirigente del centro operativo Marcello Labella grazie ad una grande sinergia con la magistratura le istituzioni scolastiche le associazioni in particolare la METER di Don Di Noto tentiamo di alzare sempre di più il livello della prevenzione del contrasto di tutte le condotte legate a questo crimine aberrante dall'adescamento alla divulgazione e produzione di materiale pedopornografico si sono conclusi nel pomeriggio a Ragalna i lavori di ripristino del sistema di rilancio del serbatoio Canfarella 2 risolto dunque il disservizio idrico sentiamo problemi idrici a causa di lavori di messa in posa della fibra succede a Ragalna una ditta incaricata di eseguire le opere di posizionamento della fibra ha infatti interrotto durante la realizzazione dei lavori eseguiti nella giornata di ieri dei cavi elettrici creando dei problemi alla rete idrica e qualche disagio per i cittadini quei cavi infatti consentivano il sistema di rilancio del serbatoio Canfarella 2 situato nel comune di Ragalna la loro interruzione ha quindi sospeso la distribuzione idrica da piazza cisterna a salire così come nella zona vigne di Santa Maria di Licodia rendendo necessario l'intervento del personale tecnico ACOSET società che gestisce il servizio idrico individuato il problema questa mattina i tecnici si sono recati sul posto per ripristinare i rilanci e provvedere al riavvio delle pompe ultimati nel pomeriggio i lavori gli impianti sono stati avviati immediatamente e il servizio è stato così ripristinato concludiamo con un servizio di cronaca detenzione e spaccio di droga con questa accusa i carabinieri di Castiglione di Sicilia hanno arrestato un ventunenne rumeno già noto alle forze dell'ordine il giovane ha tentato di ingerire cocaina per sfuggire ai militari dell'arma il contributo un ventunenne rumeno già noto alle forze dell'ordine per pregresse vicende giudiziarie è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nell'ambito di un servizio mirato al contrasto dei fenomeni connessi allo smercio di droga i carabinieri della stazione di Castiglione di Sicilia mentre pattugliavano la strada provinciale 7 che conduce nel comune di Francavilla di Sicilia si sono insospettiti per il comportamento dell'uomo il quale alla guida di una smart nera ha dapprima affiancato due giovani a bordo di un'altra macchina e poi ha allungato il braccio a loro qualcosa l'uomo accortosi della presenza dei militari ha repentinamente ritirato il braccio in auto e si è dato alla fuga il tentativo di dileguarsi è stato tuttavia vano in quanto i militari lo hanno fermato dopo alcune centinaia di metri il giovane tentava di masticare la sostanza stupefacente ma i carabinieri lo hanno invitato ad espellere quando stava masticando e si sono resi conto che aveva cercato di ingerire quattro involucri di celofan contenenti cocaina a questo punto i militari hanno perquisito il veicolo al cui interno hanno ritrovato altra sostanza stupefacente la sostanza stupefacente è stata sequestrata il giovane è stato denunciato e anche sanzionato amministrativamente poiché si è scoperto che era sprovvisto della patente di guida già sospesa dalla prefettura a distanza di qualche giorno i carabinieri della stazione di Calatabbiano nel percorrere la strada statale 114 hanno notato due giovani a bordo di un motorino SH di colore bianco a bordo del quale il passeggero notati militari ha lanciato lungo la strada una bustina contenente cocaina da accertamenti approfonditi i carabinieri hanno scoperto che il 21enne era lo stesso denunciato qualche giorno prima dai colleghi di Castiglione di Sicilia il giovane è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria convalidato l'arresto per il ragazzo è stata disposta alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale vi ringrazio per averci seguito vi ricordo che altre notizie potete trovarle sul nostro sito www.ciactelesud.com oppure sui nostri canali social facebook instagram o ancora sul canale telegram buon proseguimento con i programmi di Ciac Telesud www.ciactelesud.com